Alla luce di dati che sono ormai noti, che nello specifico sono riportati anche nella risoluzione presentata, come indicazione quelli eromomo che danno questo eccesso di mortalità, abbiamo rilevato che nella fascia pediatrica, in particolare la 014, esiste questo problema evidente, anche a livello scientifico alcuni docenti hanno rilevato questi aspetti nelle occasioni che ci sono state, quindi è sembrato giusto, anche per la sensibilità che c'è stata anche da parte delle componenti di maggioranza su questo tema, portare all'attenzione della Commissione Sanità questo argomento. Ora è in fase di approfondimento, una risoluzione proprio per determinare la possibilità di uno screening, di un monitoraggio sulla fascia 014 per capire perché questa tendenza, quindi acquisizione di ulteriori dati a livello locale che è in corso di svolgimento per poter poi iniziare un percorso di verifica e di monitoraggio che è evidentemente specifico, nello specifico che è evidentemente mancato finora, o quantomeno andrebbe sicuramente implementato in maniera molto mirata.